Oramai gli affari li tratta lui, io non ne voglio più sapere. Chi è che telefona alle 6 e mezza? Non lo so signora, credo che sia il Grossi da Sanremo. Il Grossi? Ma allora si tratta dell'Ambrugino. Vengo, vengo subito. Un momento, un momento signora. Ma che momento d'Egitto? Senti Ui, Pina, io devo fare una scappata in ufficio. Due minuti, vado e torno. Ho capito, un altro giorno. Ma che altro giorno? Te vai al cinematografo e aspettami là. Va bene, va bene, ti aspetto qua. Santa pazienza, fammi un piacere Giorgio. Dicelo te, che l'avadi al cinematografo e che la mi aspetta e che in due minuti la ragiongo. Ti capito, ti pago domani. Oh signora, felicità. Sì, ma che è successo? Senzate andare in bacio a mano. L'Ambrugino, sta male? No, sta bene, sì. Signore, grazie per il cielo. Ma c'è qualche cosa di grave, molto più grave. Leggete, questa è una lettera del Grossi, arrivata due ore fa. All'è tutto qui? Ma come tutto qui? E vi par poco. Avete letto bene? Il vostro signore nipote passa l'intera giornata al tavolo da gioco. Eh beh, ma se anche il perde qualche lirezza cascherà mica il mondo. Ma il conto e scorte può mica farci la figura di cicolataia. Ma plural, il rango. Se volete ricordarvi, lo dicevate sempre anche voi, il rango. E lui gioca per tenere sul rango e magari ci vince sopra. No, mi dispiace disilludervi. Non solo non ci vince, ma per continuare a giocare si è coperto di debiti. Beh, vuol dire che i pro erbi sono saggi. Sfortunato al gioco, fortunato in amore. Oh, amore. Oh, parliamone di quest'amore. Bella roba. Donnette equivoche, cocottine avventuliere. Ma si fa la sua età, perché si diverta, povero ragazzo. Dico anche voi, però, se volete ricordarvi ai vostri tempi... Un momento. Io ho avuto delle avventure, non lo nego, ma altro genere delle dame che mi hanno onorato della loro benevolenza e a cui... Non avete potuto dirci di no. Per l'appunto. E lo stesso lei per l'ambrugino. Lui le è un bel ragazzo e tutti ci fanno intorno la ruota. La ruota intorno ai suoi quattrini, quei quattrini che io li nego e che voi li spedite di nascosto. Ma...